La Cosedil Saturnia a Cicastello mette a segno un altro colpo di mercato con l'arrivo dell'opposto veronese Andrea Argenta. Lo schiacciatore classe 96 mette dunque a disposizione di Mr. Placì tutto il suo talento con un braccio vincente e 205 cm di altezza. Argenta ha militato nelle giovanili della Nazionale dal 2013 al 2016, dall'Under 19 all'Under 23, ottenendo la convocazione per la Nazionale Maggiore nel 2015, con la quale ha fatto il suo esordio poi nel 2018. Nelle ultime due annate Argenta ha giocato con Anversa e nella sua carriera ha disputato tre stagioni in Superlega tra Modena, Ravenna e Trento. Doppio riconoscimento nella stagione 2016-2017, miglior Under 23 italiano e miglior realizzatore della Serie A2. Quando ho saputo di essere tra le scelte della Saturnia e di Mr. Placì non ci ho pensato due volte, ha dichiarato Argenta. Conosco il mister per la sua fama, ha aggiunto, e negli ultimi anni ho giocato contro di lui delle amichevoli. Sarà molto interessante affrontare con il coach questa stagione. Metto a disposizione sua e della società, che mi è sembrata molto determinata, a risalire in Superlega tutte le mie qualità. In Sicilia Argenta ritrova compagni di squadra da Elia Bossi a Giulio Sabbi e Davide Saitta. Non vedo l'ora di riunirmi a loro e agli altri compagni, ha affermato, cercherò di tenere sempre alto il ritmo, sempre con il massimo della professionalità e serietà.